Buongiorno a tutti e bentornati sulla BOM. Oggi creeremo insieme delle scatoline porta chupa chups per Halloween. Partiamo proprio dal nostro chupa chups per renderlo un po' mostruoso. Troverete nel template delle simpaticissime zucchette dei gattini dei fan Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io qua l'ho fatto con la silhouette cameo quindi era già a posto. Poi dobbiamo passare alle piegature. Ci sono due modi per farle. La prima è semplicemente piegare dove ci sono le linee tratteggiate. La seconda opzione può essere prendere un cutter e fare dei micro taglietti dove ci sono le linee. Grazie a tutti. 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 un po' nei bordi Grazie a tutti Grazie a tutti